Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come vedete oggi sono qui nella mia pagina facebook, non sono a presentare nessuna mod, sono qui per ringraziarvi davvero tanto per i 500 like, anzi siamo a 503 quindi molto bene, niente ragazzi proprio un video veloce veloce, continuate a seguirmi, se volete condividete pure la mia pagina, continuate a mettere like, seguite pure i miei video che come appunto detto nel primo test mod qui io farò solo ed esclusivamente test mod per qualche tempo, niente iscrivetevi al mio canale ripeto lasciate like, condividete la pagina e grazie ancora davvero ragazzi, ciao ciao